Come avere la nuovissima funzionalità Tycoon Racers su Monopoly Go, oggi vi spiego tutto perché c'è un bel metodo per raggiungere questo Tycoon Racers, dovrebbe essere un evento particolare raggiungibile soltanto grazie all'utilizzo di una VPN, quindi oggi vi spiego come si fa con la VPN sia per Android sia per iOS, guardate tutto il video, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e lasciate un bel mi piace per supportare il megachannel. Prima però andiamo a riscuotere qualche ricompensina, in particolare abbiamo da riscuotere queste ricompense della buona Fabi che ringraziamo grazie per l'adesivo e grazie anche Ila per gli adesivi doppioni che mi mandi. In questa prima parte di video volevo farvi vedere anche nel dettaglio gli adesivi che mi mancavano per la collezione creazione musicale, in quanto mi sono dato da fare e penso di avere raggiunto un buon numero, comunque sono passati ed è passato poco tempo e devo dire che non mi aspettavo di poter raggiungere così tanto effort, così tanti adesivi in poco tempo. Infatti abbiamo raggiunto, ho comunque 350 dadi di tesori notturni che ringraziamo Monopoli, ho raggiunto 162 adesivi su 189, un ottimo risultato considerando che mancano soltanto 43 giorni alla fine di creazione musicale. Ve li scorro velocemente, quelli che mi mancano dal set 12 fino al set numero 21, quindi mettete in pausa il video e cliccate il link qua sotto, diventiamo amici e poi scambiamo gli adesivi. Ieri a proposito ho fatto anche un video su come scambiare adesivi d'oro, quindi potrebbe essere sicuramente interessante, ma parliamo nel dettaglio di questo nuovo evento Tycoon Racers. Ringrazio come al solito questa fantastica pagina Monopoli Go News che ci tiene sempre aggiornati su tutte le novità, di Tycoon Racers sappiamo queste cose qua, abbiamo questa immagine, la prima immagine che vi devo far vedere, Tycoon Racers, VPN Filippina, quindi già iniziate a capire di cosa stiamo parlando. Vediamo che c'è la gara, una gara che inizia tra 23 ore e 52 minuti, c'è scritto di schiacciare il tasto Go, sembra che siamo in 4 e c'è scritto preparati a competere contro altre squadre con un campionato con una gara. Poi c'è questo simbolino qua, Tycoon Racers con i vari simboli del nostro posizionamento in classifica e poi c'è la classifica ufficiale con dei premi molto interessanti. Vediamo un Wild Stickers che penso che sia un nuovo adesivo perché abbiamo il Jolly ma il Wild è la prima volta che lo sento a dire la verità. Se scorriamo c'è un'altra immagine che spiega un po' più nel dettaglio. Tycoon Racers crea la tua squadra per partecipare a un campionato con più gare. Tira i dadi per raccogliere delle bandierine e usa lo spara dadi per gareggiare. Completa i giri per vincere i premi, scegli attentamente le tue ricompense. Ottieni poi delle medaglie in ogni gara, la squadra con più vittorie vince il Gran Premio. L'ultima ma non per importanza immagine è Choose One Reward, come appunto viene fuori l'apertura di questo reward. Vedete che c'è una scatoletta nella quale possiamo scegliere tra Mega Rapina, Bandierine e Dadi. Dadi e adesivi mega importanti. Abbiamo il nostro campionato dove ci dice la classifica, Race One due coppe, quindi seconda posizionamento. E poi c'è questa mega immagine con tutte e quattro le cassette molto molto interessante dell'app Rewards. C'è poi questa immagine un po' più grossa nel quale possiamo effettivamente vedere come funziona Tycoon Racers. Vediamo che ci sono quattro posizionamenti. In questo caso c'è Carry che è letteralmente molto molto prima. Vediamo che c'è lo spara dadi che può sparacchiare un pochetto i dadi e così via. Poi loro hanno scritto un messaggio, hanno scritto Un nuovo evento Tycoon Racers disponibile solo con VPN. Un nuovo evento dal nome Tycoon Racers è disponibile su Monopoly Go. Per vedere l'evento ed accedervi occorre utilizzare una VPN. Consigliamo Tunnel Beer. Ecco, se avete Android dovete utilizzare Tunnel Beer. Vi rimando ad un video che ho fatto qua sul canale. Basta cercare come scaricare Squad Busters in Vapor. Vi verrà il tutorial. Fate lo stesso procedimento, mettete Filippine come posto. Ve lo spiego però a voci dato che non riesco a registrare attualmente per Android. Allora, la prima cosa che dovete fare, andate sul Play Store. Scaricate Tunnel Beer VPN. Vi create un account. Entrate dentro. Vi collegate al... Date tutti gli accessi del caso, permessi per collegarsi e creare una nuova rete, una VPN. Vi collegate nelle Filippine. Una volta fatto questo, andate nelle impostazioni. Account, crea nuovo account Google e create una nuova mail Google. Andate su Impostazioni, Applicazioni, Play Store e cancellate la cache, Suotacache. E cancella dati di Play Store. Non vi cancella nessun dato dei giochi, state tranquilli. Andate su Play Store. Selezionate in alto l'iconcina della lettera e selezionate il nuovo account mail appena creato. Cercate Monopoly Go, lo scaricate e avrete finalmente la fantastica Filippine. È il nuovo Tycoon Racers. Per quanto riguarda invece un'altra situazione come quella inerente di Apple, adesso vi faccio un tutorial pratico e così almeno abbiamo un'idea migliore. Comunque ci dice, una volta fatto, disinstallate e reinstallate Monopoly Go, aspettate che vi appaia il nuovo evento. L'evento non ha una data d'inizio e fine precisa. Una volta avviato dovete prepararvi la vostra squadra e aspettare l'inizio del primo round. Ogni squadra dovrà affrontare altre tre squadre nel round, quindi chi totalizza il maggior punteggio vince il primo posto. Successivamente ci sarà un secondo round e altre ricompense. La squadra che riesce ad accumulare più round vinti vince il premio finale. È un nuovo gioco, quindi non sappiamo i dettagli, i vari bug che potrebbero esserci. Vi terremo aggiornati e le informazioni fornite potrebbero essere modificate nei giorni a seguire. Pertanto prendere questo scritto con discrezione. Io vi ho fatto una prima parte del tutorial, adesso la continuiamo per quanto riguarda Apple. Per gli utenti Apple è tutto un po' più semplice. Perché dico questo? Perché vi basterà andare sull'app Store. Ci cliccate sopra, vi aprirà la pagina. Adesso io sono nello store italiano, dello store italiano. Cliccate sulla vostra iconcina. Io c'è scritto FR perché è il mio nome e cognome. A questo punto dovete cliccare quello che c'è scritto sopra Game Center. In questo caso io avrò la mia mail, voi avete la vostra ma non mi faccio vedere la mail. Cliccateci sopra. Tra le varie impostazioni account che potete andare a selezionare, quella più importante è Paese e Regione. Ci dovete cliccare sopra, andare su Filippine. Vi aprirà poi una pagina dove vi dice sostanzialmente di inserire tutti i dati delle Filippine. Li potete cercare da internet ma sono veramente, veramente semplici. Li date ok e boom. Il gioco è fatto. Vi andate nelle Filippine, scaricate Monopoly Go e risolvete il problema. Cosa sta succedendo? Ok. Non so, è esploso tutto ma non vi preoccupate. Una volta fatto questo, come fate a tornare in Italia? Monopoly vi rimarrà per sempre in versione, tra virgolette, Filippina. Ritornate in Italia e risolvete il problema. Non dovete disinstallarlo e non reinstallarlo. Lasciate quello che dovete lasciare. Stessa cosa per Android. Tornate indietro e rifate tutto dall'Italia. Cioè, non dovete disinstallare più il gioco che avete scaricato nelle Filippine. Insomma, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate di Monopoly Go e di Tycoon Racers. Sembra ricordare un po' Tycoon Club. Non so chi di voi ha avuto la possibilità di essere invitato. A me non è mai capitato come evento personalmente. Ho fatto anche però dei video a riguardo. Li potete trovare qua nella playlist ufficiale Monopoly Go Ita. Se avete dei dubbi su procedimenti, su metodologie per la VPN, non siete riusciti magari a scaricare qualcosa. Raga, veramente, non vi fate problemi. Io sono disponibilissimo e rispondo sempre a tutti i commenti. Quindi giù con i commenti qua sotto. L'unica cosa che vi chiedo è lasciare un bel pollicino all'insù. Se siete in hype e se siete veramente carichi con il vapor per queste novità di Monopoly Go. Cosa avevo detto? Che sarebbero arrivate le classificate? Ditemi che non sono al messia, raga. Me lo sentivo, me lo sentivo. L'unico metodo che ha Monopoly Go per farsi strada, tirare sgomitate all'interno di questo mondo videoludico. Molto, molto, molto stirato. E fare questo. E l'ha fatto bene. L'ha fatto decisamente bene. Sono contento di cosa ha combinato. Detto questo, noi ci vediamo d'oggi alle ore 14 e nei prossimi giorni con nuovi video, nuove live, nuove cose. Un big support. Se avete Twitch potete andarmi ad abbonare gratuitamente. Se avete Amazon Prime, link sotto in descrizione. Se no, 2 euro qua su YouTube. Un bacione. Tycoon Racers a tutti. Grazie a tutti.